Benvenuti in questo re-upload. In questi video, un pre-roll per NordVPN che, come tanti di voi, sponsorizza da anni i miei canali, vale la pena. Sì, continuo a migliorare i mezzi professionali che finalmente ho, ma guardate cosa accade quando vi aggiungiamo collaboratori e... i loro. Quindi, ragazzi, questo è il codice per ottenere sconti e promozioni sotto il mio nome e... Insomma, vogliamo che Goober, Laudret, Emdy, Camilla, Flefa, Lamy e gli altri che incredibilmente lavorano con e per me abbiano ogni tanto un foro nella cantina che faccia passare quantomeno un raggio di sole. Codice Sabaku. Per aggiungere ancor più etica, però, prima della live ricaricata è appunto migliorata. Due parole. Sottoscrivere una VPN oggi è qualcosa che equivale quasi al vestirsi per uscire di casa. E Nord è un'azienda di cyber security che le cose le fa per bene. Altrimenti, con tutto il rispetto, non sarebbe stata qui. Quindi, piuttosto che fare il pippone sulla threat protection, dati al sicuro, l'evitare pubblicità invasive, l'anti-malware e cosine sparse come i server offuscati e quelle di da scalì e da servizio, che contano certamente, semplifico. La uso da sempre. Anche nel passato in cui avevo paura di rallentare le mie submediocri linee internet. E da oggi, con un solo account, si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. Quindi, un sabacue per tutti. Buon recupero, o bis, della live, ragazzi. Buonasera, ragazzi. Sapete che questa è la quindicesima live di Fear and Hunger? È la quindicesima live di Fear and Hunger. Ho un paio di cose da dirvi a riguardo. Ho davvero un po' di cose importanti che vorrei comunicarvi e, grazie del supporto, grazie di essere qui, dopo così tante dirette di un titolo apparentemente piccolo, indipendentemente dal successo della nicchia che ha avuto. Nicchia enorme. Nicchia che è diventata un'esplosione di qualcosa che, secondo me, valorizza davvero ciò che tante aziende dovrebbero comprendere. Ossia il valore di non puntare sempre alla più completa massificazione di un software e di un'opera di intrattenimento, ma anche a volte sperimentare e andare oltre. L'ho sempre detto, Fear and Hunger è un videogioco che io stesso... È Fear and Hunger di tutti i videogiochi che ho vissuto, di tutti i software che ho, diciamo, proprio esplorato, completato, studiato, che è il termine che stavo per dire, Fear and Hunger, e lo dico con la più completa, sincera, genuina e felice umiltà, è l'unico videogioco che non sarei stato in grado di immaginare. È l'unico videogioco che, al farmene provare 20 minuti, avrei fallito criticamente nel dire no, non può funzionare, non è un videogioco che può tenersi in piedi. Al massimo è un esperimento curioso, ma non funziona. Certo, se al posto di 20 minuti diventano 40, già avrei capito cosa c'era dietro. Ma per quanto lo spazio di errore sia stato chiarito a essere poco, mi interessa sottolinearlo, perché Fear and Hunger è qualcosa di completamente alieno, e l'ho sempre discusso come tale. Fino a che ti rendi conto che un po' l'Outer Wilds è anche questa una sorta di Metroid Braini di certe meccaniche GDR. Estreme, ma GDR. D'altronde, se l'autore Miro ha messo i letti utilizzabili senza coin flip, con i nemici uccisi, c'è equilibrio di gioco. Non sempre perfetto e non sempre funzionale. ci sono delle enormi lacune ed errori. Ma è un singolo ragazzo che ha usato RPG Maker? Molto dipende dal futuro, ma una personalità come questo ragazzo non è così lontano da un Kojima. Probabilmente poi Kojima aveva dentro di sé un genio nelle sue eccentricità che ha sviluppato diversamente con strumenti molto, molto agli antipodi di questo Miro. però questo ragazzino, ragazzo che è cresciuto ed è diventato un giovane uomo che ha provato, ma non è un'affermazione surreale alla fine. È grande, ma non è surreale perché perché ciò che ha fatto Miro è stato creare qualcosa che comunque prima non c'era. Certo, è la base della base del JRPG portato a delle estremizzazioni. Va bene. oltretutto non conosco Termina né so come sarà Fear and Hunger 3 non posso prevedere che questo ragazzo cresca in un uomo geniale fino in fondo ma ciò che ha fatto non glielo toglierà mai nessuno perché ciò che ha fatto è qualcosa che prima non esisteva. Sotto alcuni punti di vista non è per niente lontano da un Fox non è per niente lontano da un Kojima dell'87. Fear and Hunger è un'esperienza che trascende il Treilender e diventa qualcosa di profondamente identitario dell'autore. non c'è un altro Fear and Hunger così come non c'era un altro Demon's Souls e Dark Souls. Hidetaka Miyazaki è uno dei più grandi paradossi della storia dell'industria. È diventato CEO di From Software in un decennio a partire dai suoi trent'anni dove ha aiutato a completare e a salvare dall'oblio Demon's Souls. È una totale follia. Non manca molto a lasciarcelo alle spalle. Non manca molto al finalmente per alcuni magari sostituire questo titolo stupendo con un prossimo software opera e videogioco che andremo a esperire e a condividere insieme in quello che è una schedule veramente molto fit. Ma credo che cominciate a capire che avremmo potuto chiuderlo molto prima di adesso e credo che non sospettiate quanto vorrei giocarlo tantissime volte. Provo per Fear and Hunger una sensazione simile a quella che ho provato per On The Binding of Isaac. Vorrei davvero tanto 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 continuare a giocarlo per altre 15 live da 4 ore e vi posso garantire una cosa semmai io mi muoverò in viaggio con la Steam Deck eccetera sarà con lui farò delle randa solo studierò tutti i video di Fra Pollo li guarderemo magari anche insieme prima di salutarlo io ho bisogno di muovermi in Fear and Hunger come se fossi in un parco a giochi come Lordran adoro questo videogioco è davvero uno dei miei preferiti di sempre e mi piace anche la sua narrazione mi piace la sua storia mi piace il suo mondo perché non è inutilmente complicato è astratto è oscuro è perverso ma non è contorto c'è anche una componente di gioco d'azzardo della sua componente più sana che è impossibile confutare abbia un effetto davvero divertente chissà cosa c'è in questa scatola chissà cosa c'è in questo scrigno qual è la pool degli oggetti come andrà questa run qual è il percorso migliore per ottenere le lesser soul necessarie è veramente qualcosa di cui mi sono innamorato io sono innamorato di fire and hunger detto questo vi ricordate come ci siamo lasciati la scorsa volta vi dissi vi dissi che ne pensate se vado avanti se vado avanti e ci troviamo la endless tower così evitiamo altri reset mi sono messo off screen a giocare per raggiungere la endless tower ma siccome mi piace avere sempre tutto documentato mi sono registrato e vi dirò che il salvataggio che state per vedere e che condivideremo insieme adesso è arrivato al secondo try ora metterò il video a schermo l'ho anche esportato e vi faccio vedere eccoci qua questo è il salvataggio osservate eh no non ci sono gli occhiali non posso cioè gli occhiali li ho trovati solo con voi una volta non li ho cercati di farmare è inutile cioè con quale percentuali ci saranno non ne ho idea ma non penso sia buona questo sono gli off screen eh allora volevo schivarla mi ricordavo che c'era però avevo 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 ricominciato la partita dopo la live ho detto andiamo veloci un po' troppo veloci quindi eh tra l'altro vi faccio vedere una cosa rigiocandolo rigiocandolo ho notato ho notato un dettaglio che non so neanche quanti della community sanno avete notato che guardate carico la partita guardate carico la partita e c'è la torcia guardate guardate io qui chiamo fra pollo e gli dico la sai sta roba perché sabaku potrebbe averti dato un'informazione sconosciuta insegno io firendanger adesso guardate muoio ricarico la stessa partita stessa partita la ricarico e la torcia si sta spegnendo guardate la torcia si sta spegnendo quindi la mia paura era fondata c'è un timer c'è un timer che si consuma fra caricamenti e partite anche se carico la partita è la stessa partita è un load game sono tornato al title ok ok è registrato il file o il file o il file ah qua visto che ero convinto di fare 50 ricaricamenti non combatto neanche il tizio però in realtà questo diventa il save finale o meglio io l'ho fatto su un altro slot però è il save semifinale e il ottimo croce un altro monocolo ci sono rimasto male ma sono andato avanti vi voglio far vedere tutto altra croce stavo molto contento ecco qua ho avuto non avete visto la reazione abbiamo fatto un oh 35 monete d'argento ho trovato in questo screen ho pensato ok spero di trovare altre croci così non devo ricaricare ma non è la cosa più figa che succede state a vedere state a vedere succede succede una cosa che non pensavo possibile proprio a livello di pool di oggetti vabbè qua va bene farvi vedere tutto ma che palle faccio il puzzle ok ed entro qua qui faccio il lucky coin perché sono i primi libri black orb black orb primo fallimento però il primo fallimento qua dopo nessun fallimento tutti gli altri erano croce quindi un ottimo save e dico vediamo come va qua sopra se faccio tutti i fallimenti ricarico vi dico anche i miei ragionamenti cavola qua abbiamo le maneva schioppano tobacco full armor e 35 silver coin da un vaso io lì avevo gli occhi spalancati 35 e ho pensato questa cosa non va ricaricata mai cioè 35 silver coin non da uno scrigno con il coin flip ma da un vaso ah aligi buonasera benvenuti ragazzi grazie del raid qui vado a buio ma faccio un'altra croce e dico perfetto lockpicking che però secondo me sono ancora completamente vergine della funzionalità di lockpicking ma se serve ad aprire le porte è inutile in questo gioco visto che le porte si sfondano qui torcia e comincio a essere felice visto che stiamo finendo un'altra croce ecco capite che questo salvataggio è stato tranne un tiro perfetto e infallito e poi church of healing che è healing whispers un'altra croce pyromancy quindi praticamente è stato come avere un cheat con tutte croci tranne per un tiro dove le cose sono andate molto male purtroppo io quando non ho neanche parlato con la medusina sono uscito e sono subito corso a Mahabra perché ho detto devo andare a salvare devo andare a salvare immediatamente speriamo che la skin granny sia easy con un po' di fortuna e poi con i ragazzi cominciamo da lì e facciamo i fantastici esatto ho sbagliato solo un coin flip su tipo 9-10 ora qui un disastro ve lo faccio anche vedere ma trovo un sacco di monnezza non cose marce ma cose inutili nel senso o meglio inutili non è vero sono sono ostile nei confronti della partita non trovo torce ecco non trovo torce mi sa che questa la fallisco ho un brutto ricordo di questa cosa è infatti secondo fallimento dico vabbè vabbè ovviamente un videogiocatore molto cinico sarebbe andato a salvare per poi una volta salvato tornare qua e fare save scam però ragazzi volevo darci un salvataggio su cui proseguire il problema è che tutte le interazioni che ho qui sono senza torce quindi cose già avute faccio il giro nitro di licerina leather helmet throw in dart prendo il tesoro tinderboxes maledette prendo il tesoro che difficilmente useremo cambio l'equipaggiamento perché la full armor è molto buona ah sì perché qua qua ho un colpo di fortuna opium powder oil no era prima guardate oil plate mail trovo una plate mail in un gioco in cui la difesa non funziona ma va bene quindi metto comunque l'armatura pesante credo a kahara esatto e poi a scheletoni metto la high pre no la full armor che è potentina vado avanti e poi succede il disastro vado nel presente decido di andare nel presente perché voglio raccogliere le cose per strada dico ragazzi qui faccio la mossa glielo spiego anche vado nel presente così se trovo erbette verdi eccetera vado qua non faccio più accelerazione ah vabbè sì qua c'è il segreto sempre raccolgo e appare questo evento che ci era già successo vi ricordate e dico cazzo qui ho detto per fortuna che sto registrando ma combatto combatto consapevole che sono nei guai fino al collo perché ho soltanto una torcia questo miss spaventoso qui ho pensato che avrei fatto game over e stavo per morire proprio dentro io Michele e qua sapevo che avevo vinto ero contento alla grande alla grande muore e accade qualcosa di cui non avevo idea quella cosa che come videogiocatore sapendo che tra l'altro è un evento casuale raro diventa l'offerta a cui non posso dare rifiuto la mia trappola l'invito al commitment verso una scelta opzionale fatta solo a questa difficoltà e solo in questa run tu mi dai un premio per qualcosa che ho scelto di fare di unico mi hai tra l'altro l'anima si rifiuta qua l'anima si rifiuta qui dico vabbè ti aiuto e si può davvero portarla da trortur avevo trovato l'evento ma non da trortur perché trortur era morto a questo punto l'emozione mi coglie il cuore e penso questo non è come l'idra che mi ha tradito senza alcun tipo di extra qui c'è davvero un sequel e non resisto e vado io qua stavo pensando mi rovino tutto mi rovino tutto mi rovino tutto ho una sola torcia ho una sola torcia come cazzo faccio ho una sola torcia sono nei guai ho una sola torcia non importa è una bella run ho trovato bei oggetti ho una sola torcia non resisto sì lui mi diceva portami altre cabie ma anche l'idra diceva portami altri corpi ma l'idra ti dà una sola trortur non lo sapevo ancora e quindi dico vabbè se mi dà altri due blue light vials io lo ammazzo però è successo questo e mi dà una chiave unica questa chiave ti permetrà di ottenere la mia preziosa possessione il mio tesoro questo ed è tutto ciò per cui ho versato il sangue illumina tutte le candele su questo piano aprirà la porta della mia stanza segreta fanne buon uso al che io dico perfetto purtroppo non posso scendere e andare a salvare perché poi dovrei risalire non posso risolvere questa cosa perché devo farlo in live quindi con l'ansia e la paura controllo cosa deve dire jean e faccio è un cane mangia cane controllo su lui a dialoghi unici perdendo altro tempo e gli chiedo di raccontarmi la sua storia che scopriamo essere qualcosa che già conoscevamo è quella che si legge nei vari diari in cui si racconta di Tortur cos'era l'eroe che è diventato il mostro e lui sembra avere reminescenze di questo passato mentre la mia torcia si spegna si spegne ok non accendo la torcia piango in ogni lingua possibile sul fatto che non ho dei danati stick e cerco alla cieca ricordandomi che c'è anche un pulsante trappola che vorrei evitare l'ho accesa me ne ero dimenticato l'ho davvero accesa? l'ho salvato ho salvato quella torcia e poi ricomincia il video oh no ero arrivato qua convinto di non averla accesa va bene vediamo qual è il tesoro di Tortur accendo questa non è che per caso c'è una cassa che non ho mai aperto vero? no nothing nothing eh i stick nei giardini li ho prese nothing ah cazzo abbiamo una chance nothing nothing empty bucket grazie Mark torcia ascolta non posso andare avanti no dai sforzati ancora un po' ti adoro niente 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 però siamo follemente fortunati esiste una chance di trovare una torcia vero? salvo che le bookshelves non abbiano una pool diversa e dov'è la tua stanza dei segreti amore mio? ah è perché quel mobile ha due interazioni eccola è lì oddio c'è un c'è un corpo che pensola sembra essere morto di recente da poco figurati penance knights i cavalieri della penitenza ne faceva parte Trortur no? l'ha detto prima? perché ho letto il dialogo che dice quando gli raccontiamo gli facciamo raccontare la sua storia ma non ricordo si cita loro sono un'unità speciale della città del Vaticano sono usi sono usati per le più pericolose missioni dove le chance di sopravvivenza sono particolarmente basse quindi l'armatura è sta l'armatura non era tailored non era un'armatura ma forse fatta a mano quindi l'armatura è stata disegnata solo per essere indossata in che senso there is no removing it non si può rimuovere una volta che qualcuno è stato scelto per la missione è la berserker armor è berserk l'armatura a file di piccole è berserk di piccole spine che scavano nella pelle del suo indossatore il dolore ha lo scopo di purificare la mente per la missione e soprattutto aumentare la furia nel combattimento siccome la natura dei cavalieri della penitenza è dell'armatura del penitente diciamo soltanto i criminali condannati a morte o ergastolo sono entrano nell'unità hanno gli viene data un'ultima chance di pentirsi dei propri crimini e abbandonare i propri peccati prima che l'asceso Olmer li giudichi offrirebbe grande protezione senza dubbio ma il design perverso ti lascia dubbioso le spine dell'armatura penetrano profondamente con ogni passo che fai ogni passo sembra agonia senti il sangue che esci dalle spine dalle ferite il tuo corpo come prima reazione all'istinto di abbandonare l'armatura ma non puoi i meccanismi sono sigillati e se anche riuscissi ad aprirla temi che le spine siano già troppo in profondità dentro di te ora è parte di te per il resto della tua vita che sarà anche poca un paio di giorni al massimo ha pensato a tutto sto ragazzo a quasi tutto sto ragazzo e le caratteristiche non ha valore che figata sarebbe stupendo poterci scendere allora ragazzi forse abbiamo una chance e per la prima volta farò suicide ma in realtà non potrei farlo ha valore ma non te lo fa vedere ma è strano vabbè allora ragazzi RNG RNG pronti? inutile sforzarsi inutile se non trovo una torcia o nello scrigno o nel bookshelf credo che ce la faremo ad andare a Mahabra grazie Olmer allora mi concentro un secondo e ne parliamo dopo ok? mi concentro un secondo devo scendere e andarmene da qui ti prego dammi un'altra torcia non voglio nient'altro voglio un'altra torcia dammi un'altra torcia io non la metto io ora vado qua e corro ok? ne parliamo dopo per lo shortcut conviene fare questo sì mappa 3D mappa 3D mappa 3D mappa 3D mappa 3D anzi mappa 2D ma 3D è vero sto sanguinando grazie ragazzi mappa 3D 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 vai 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 yes wow ce l'abbiamo che curo siamo fortuna grazie ancora non posso descrivere quanto sia fortunata certo ti aiuto i tuoi amici stanno bene grazie oh c'è ma qua non ci sono le scale ma quindi ha attivato il dialogo come se l'avessi portata qua quindi dovrebbe essere C-Seymour no? merda è stata sbagliata aspettate ma non era qua aspettate ah è alle prigioni ma certo beh che culo abbiamo trovato un bug incredibile è qua sopra aspettate no è qua sopra sì ti prego 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 non fallire non fallire non fallire non fallire please 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 no 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 persino non ce l'ho moledizione era il momento di avere la torcia è qui ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto no Non andare, ti prego, per favore, ho fatto una cazzata, ho fatto un errore, perdonami, è buio, è così buio Ce l'ho fatta Questa Penance Armor non serve a una pip Cioè cosa l'ho presa a fare se una mera trappola per orsi mi spezza le gambe A che pro? Per darmi perma-bleed, esatto Anzi Mike, te ne manca una Ah, questa A posto, stavo per ricaricare Adesso qua mi diverto Ma certo che la voglio tenere, è una cosa nuova fighissima Segretissima per una scelta malvagia fatta solo in questa run È il momento di trovare uno stick Voglio uno stick Voglio un pezzo di legno Voglio qualunque co... un empty scroll Per chiedere uno stick Bob Quel che sia sia è speciale Non è uno stick, ma... Bel anello, ma non so che fa È legata al sangue, ma non so che fa Ok, io vado ragazzi Adesso cerco di essere al limite dello speedrunner Quindi... Permettetemi di ignorarvi un secondo Non devo sbagliare adesso Mi prendo il premio Che sicuramente ci tornerà comodo Ok Senza dash sarebbe alla fine comunque Merda Mike I nostri per caso qua sopra c'è Cazzo Ci sono... C'è un sacco di interazioni qua che... Eh no Bisogna andare di RNG qua No Non posso Questi saranno i reset che facciamo qui per ora ragazzi No no Servono altre torce No 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 È fatta 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 Ci servono altre torce Ho sbagliato Ci servono altre torce C'era una torce a muro? È fatta È fatta C'era una torce a muro S얔 C'era una torce a muro C'era una torce a muro C'era una torce a muro Acervata Seu C'era una torce a muro Grazie a tutti. Non si gifta niente con Chintengin. Queste sono run legittime. Non si può. Assolutamente non è quel tipo di run. Questa deve essere tutta vera. Non è una run di esplorazione dopo 100 ore in cui proviamo questa cosa. No, no. Terror and Starvation deve essere così per me. E' Real TV, ragazzi. Poi se qualcuno mi tira con un po' di RNG una bella empty scroll... E' fatta. Va bene. Va bene. We're so back! Speriamo di non trovarci una VS5 Pro. Rotten meat. A questo punto andiamo di... Allora. Mind. Andiamo un po'. Ale. E adesso... E adesso... E adesso... Si sta spegnendo, ragazzi. Si sta spegnendo. Questo era rimasto vivo. Oh, cazzo. Cosa io ho... Che io ho fatto così? Ah, sono tutti affamatissimi. Ok. Ehm... Andiamo di... Moldi bread. No. Andiamo di... Ehm... Vediamo un po'. Carota. 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 Formaggio. Cabbage. Cabbage. Ok. Non... Che cazzo sia uno zombie no? Ok. Merda, ho sbagliato la porta. Ok, lui muore. Testa. No. Braccio. Braccio. Adoro. 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 Ma no, posso mangiare anche con l'armatura. Guardo il cibo e faccio il gnam gnam. Merda, sto morendo! Sto benissimo, una favola. Ok. No, che non mi curo. Curarsi mi provocherebbe... ...uno spreco di risorse, no? No, che non devo. Il sanguinamento non mi uccide, no? Eh... Giusto? Ah, la Salmon Snake mi rende immune al sanguinamento. Non me lo ricordavo. Cazzo. 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 Allora, diamogli il libro Church of Healing Healing Whispers. Grazie della cura. E ora che siamo qua... E ora che siamo qua... Certo. Ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! Ora c'è luce! Andiamo a letto subito! Non luterò nient'altro, anche se qua le ho quasi fatte tutte. C'erano parole orrende su di me, vero? No, allora, se muoio adesso... Ho trovato un'altra torcia. Cioè... Non ci posso credere. Ce l'abbiamo veramente fatta. Non devo fare cazzate. Ehm... Allora... Wine Vial. A te. Non posso salvare. Non ho modo di salvare. Devo uccidere la Skin Granny per salvare. Pipe. Tobacco. Joel. Ok. Vabbè. Questa si cucina. Eh, ma... Ovvio che voglio spendere... Ragazzi, siamo dinanzi a qualcosa di prezioso, ok? Puoi salvare nel presen... Vi prego, ditemi che è vero. Guarda, ci trovo dentro un crow mauler con due teste e quattro cazzi. No, raga. Oddio. 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 no bellissimo sto dialogo stavo per perdere allora Kaara è il personaggio mentalmente più debole insieme alla bambina perdonatemi se non ho tradotto ma ero coinvolto emotivamente perché ho trovato un'altra chicca cioè è grazie a Shenia fondamentalmente che Kaara rimane in parte altrimenti l'avremmo perso che combo pazzesca dolcissima e bellissima eh non hai letto perdonami Jackal colpa mia che in realtà non ho tradotto è colpa mia fondamentalmente c'è Kaara che dice guardate ragazzi non ce la faccio più devo riportarmi un momento perché significa perdersi per sempre e tu gli dici no 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 ti prego abbiamo bisogno di te siamo al limite di Mahabra ce l'abbiamo fatta e lui fa da quando in qua puoi dire cosa fare lasciatemi stare voglio crepare qua e c'è Dars che fa non è vero bla 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 non devi farlo perché tu in realtà bla 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 lui fa ok ok mi vuoi colpire proprio il mio punto debole non posso dire di no degli occhi come i tuoi perché vuole fare un po' il Don Giovanni e il Salvatore visto che la sua storia è quella che riguarda proprio il fare di tutto pur di dare una speranza di futuro alla prostituta di cui hai innamorato perché si liberi del casino in cui lavora insomma teostra e lunastra ma come hai fatto ma che ragionamento è stato bellissimo teostra e lunastra oh ma abbiamo tratto solo roba marcia qua io non accendo una torcia mai esatto non si può dire di no a una con gli occhietti dolci come i tuoi vero? va bene Angelo esatto ok a sto punto potrei anche provare a combattere la skin granny tagliando degli arti senza cercare di fare critici fortunati eh sennò io luto il possibile assolutamente anche se noi abbiamo due tre torce G fucking G a meno torce hai più è probabile di trovarne comunque quindi a un certo punto non ha senso risparmiarle ho capito ma se non ne hai cioè il problema del mio software è che io pensavo di aver finito le interazioni vi rendete conto che oggettivamente ed ero pronto a questo ero assolutamente pronto a questo se non ci fosse stata quella libreria e quello scrigno dopo la porta segreta avremmo dovuto resettare non è un tutta la run eh dico a partire da dalla scorsa live turnip mamma che merda silver coin mazza che schifo sto trovando mamma mia mamma mia mamma mia io sono andato dalla cieca e mi accontento così eh si sono cappatissimo sicuro almeno non c'è cibo di marcio no è vero è vero è vero è vero è vero è vero via via domanda tecnica per chi lo sa voglio una risposta la pool di hp della skin granny è già attiva quando è granny oppure no secondo me no secondo me col cazzo però ci provo facciamo così miasma via spider shield via facciamo questo questo eye glasses miasma bone shears ecco qua perfetto perfetto non è attiva ok 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 perfetto così siamo tutti spottati pronti allora allora feromons scheletoni mi dispiace mi dispiace dars anzi no no feromons dars skill defense stance kahara guard via adesso 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 left arm questo questo poi middle arm right arm b qualunque cazzo di cosa sia anzi no leg merda merda ha sottovalutata accrittato allora facciamo un esempio quanto mi fa male con questa armatura e vediamo se mi toglie gli arti critica slash è proprio speciale a è fatta è fatta è il primo siamo un tank che spettacolo ok 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 siamo a cavallo onestamente non so cosa cambi tra blood golem e greater blood golem mi sfugge jovix 22 ragfast neoborcellina bentornati geclemotta disma rago civics grazie chevrar ring in gacomo di cuore daniel sale bentornati ma posso tenere premuto per saltare i dialoghi grazie allora andiamo mi si è buggato il gruppo ma va bene così no greater hearting fa meno consuma meno mana meno meno mind ah greater blood golem ti può dare 5 hp il posto di 20 figo quindi in realtà non aumenta i danni aumenta infatti non esiste greater black orb tra l'altro il gruppo per i deboli affinché con me davvero ragazzi o comunque sto finendo anche terror and starvation ce l'ho fatta credo che posso dire di aver finito terror and starvation no non è vero i veri boss cominciano adesso ora appariranno penso no vediamo vedremo viaggio dried meat molto buono white vial molto buono rotten meat molto cacca rotten cabbage super cacca ok si da ora in poi giocare a fear and hunger diventa come difficoltà fear and hunger diventa una passeggiata praticamente è stupendo è una figata ok poi nothing left non tanto come isaac base ad hard mode ah no intendi sino il normale intendi il gioco base si esatto tutti i boss del gioco base precisamente ok poi vediamo un po' vediamo rotten tomato ci sta andando peggio con il cibo eh dried meat neanche troppo e il buono ok nothing left salame cheese glass ooooh quattro torce siamo nel cazzo di futuro explosive vial glass vabbè quanto vino possiamo avere ale tomato salame ma qui siamo silver coin vabbè ragazzi non dobbiamo fallire non dobbiamo fallire cioè se fallisco adesso ma se non fallisco please no oh lord give ninety nine torches e sono macabre con tutte le braccia a terra reinstarvation blind run meravigliosa oh cioè questa serie è stupenda adesso non falliamo non ho cambiato gli equipaggiamenti sono nella merda fino al collo ho fatto una cazzata imperdonabile vabbè ferobons su di me tu hai già fast attack quindi defense kakara aiuto no no ok piano 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 amici vai piano ci ha preso però dai oh ma aveva 10 hp adoro ok ragazzi questo momento è di pura serenità abbiamo quattro torce a macabre non ho neanche idea se ci sono altri posti buio in tutta la città forse il tempio del tormento 4 attacchi 50 danni 4 attacchi critici no di cui 2 critici almeno ok ok salva anzi no prima facciamo questo facciamo allora ah no l'abbiamo già fatto ah no l'abbiamo già fatto ok è fatta è fatta è fatta cazzo adesso vediamo ok scheletoni è troppo importante io potrei andare a prendere Ragnvalder ma perché ho scheletoni ora torniamo indietro raccogliamo tutto ok 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 stronzi va bene basta glass vial ne ho 800 vabbè ma ma ragazzi ma voi siete in diretta con me sta succedendo tutto ed è tutto vero va bene pisello in testa drawing knife cloth blue vial purifying talisman drawing knife red herb poi abbiamo i misteri l'amico un pochino invadente in realtà è tutto un sogno nothing 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 ok in teoria dovrei pensare alla mappa 2 che però è palesemente davanti al tempio del tormento no ci sono posti bui vabbè una torcia learn the secrets of the bloodlust a skill that has been used by the ferocious northern tribes for generations si parla di berserk io ho giocato nella one shot coso ragnar balder ma non mi ricordo bloodlust potrei averla avuta senza essere mele dimenticato io ovviamente per non saperne leggere e scrivere vediamo un po' abilità bla a bloodlust hype yourself into a state of aggression and trance and all traditional all the guard falls kill va bene la proveremo pure shit perfetto allora via la manina corrotta via la manina corrotta via la gambina eccoci qua e ora tutti focus sul bimbo siamo forti eh abbiamo veramente un party che non ha senso siamo fortissimi ma basta gli eyeglasses non ci hanno mai fatto fallire un attacco ok ragazzi qualunque giocatore di fear and hunger penso che stia godendo in questo momento siamo troppo forti troppo efficienti troppo fighi ma la cosa sto guardando niente eyeglasses sono il 50% di trade in più io avrei fatto il 100 io ero assolutamente soggetto l'avrei riso il 100% non so come prendere la blue scene non ci ho più pensato lo ammetto adesso sono troppo fomentato per altro poi vediamo voglio provarci ad andarci con blood portal manina manina testina vai nooo ti prego non è andata per niente bene via la mano ok ricordiamoci che queste sono sex dolls sensienti più o meno dove sono i binari in questo gioco ora che sei un treno non ho la scroll con blood portal ho la ho spammato ragazzi ho la scroll con black orb gioia è affamato gioia è affamato ok che paura quel cosa opium scheletoni con zero mind è un mood ragazzi morning star ma io posso fare qualche esplosivo perché non ce la faccio più c'è ah però noi possiamo fare black vial attenzione black vial possiamo verne quante ne vogliamo presto eh qua è tutto buio glass vial glass vial basta nitroglicerina questo lo uccidiamo braccio 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 per sicurezza ma porca di quella ladra amici lo sapevo che finiva in merda cara cara io non so come dirtelo non ho green herb oh e daje eh la salmon snake non basta ormai è infetto però delle green herb potremmo trovarle green vial no potremmo trovarle nel presente come dovrebbe bastare ragazzi non può essere così rotta dai si è rotto il gioco si è rotto il gioco nella seconda run non lo accetto come consiglio dalla chat ma always has been ma sta roba è gigantesca nooo ragazzi ma che sta succedendo abbiamo penance plate 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 white angel white angel e poi avremo terza white angel quando uccideremo il vero angel ragazzi io voglio che cioè devi andare su reddit questa devo avere un ricordo softlock cioè allora exit of mind 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 cosa cosa non hai quanti ne ho quanti ne ho 10 a posto bonso vabbè ok adesso ci siamo giusto posso usare un explosive vial qua basta oddio no eh sto bene così ripasso dopo cloth fragment blue herb quill vabbè joel per favore un po' di rispetto biste in area non posso accendere qualche torcia è un po purple vial ok ecco qui abbiamo siamo vicini a erano abbastanza non è qua mi sa ed eccoci qua non devo toccare niente scoop scoop sc política, glu 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 gooo E adesso Mamma mia glu glu Eccoci qua Ho 12 Explosive Vial adesso Poi Black Vial ce la copiamo E via E il godo L'uvaia No allora cara 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 Con tutto il bene che ti voglio Bevi di questo e non rompere il cazzo Ti va? Ok Eccoci Qui abbiamo Palesemente Il tesoro Vero? Ci sono le tre porte anche Però non è direttamente qua Vediamo un po' Ah è nel presente Giustamente non ci sono i tesori Bimbi Io non scappo No però Cioè Per favore Studi di Olmer Anathomia Natural Doctrine 2 Blood and Flower Magic Io qua non accendo neanche Un cerino ragazzi Croce Alchemilia Mannaggia Dai c'era ce l'ho Studies of Grogoroth Quill tua madre Red Herb Tua zia Ragazzi Osservate con me Ok Qua c'è una porta Che non l'ho vista non vedo E qua non posso qua non vedo una pippa è un piccolo cieco no c'è una libreria spero che sia croce no Sì. Episodio top! Oh lord, blow me! Allora, fatemi aprire gli appunti. Me l'ero segnato quale fosse la password? Sicuro, dai. Sicuro. A meno che non sia... A meno che non sia diverso... A difficoltà Terror and Starvation, eh? No, non me lo sono segnato. Ragazzi... Non mi sono segnato la password di Valtail. Domanda. A Terror and Starvation. È la stessa? Se cambia, non ditemela. Se è la stessa, ditemela. È la stessa? Let's go. Mani dietro la testa e sguardo in basso. Pacco a sinistra. Forbici a destra. Perfetto. Grazie, amici. Cosa cazzo posso trovare dopo che ho già trovato tutto Black Raider Blood Magic? Vabbè, devo salvare. Cara. Ah, ma stanno perdendo la salute mentale a una velocità insensata. Come mai? Per il miasma? Ah, ma non ce l'ha neanche? Ah, è per il buio! Fuck! Per il buio. Cazzo. Cazzo. Ma certo. Avete ragione. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non mi ricordo l'assalvataggio dove è qua. qua c'è un letto, vero? Accendo la torcia. Un altro stick. Vabbè, io impazzisco. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Ok. Non serve a nulla rompergli le gambe, però. A questi uteri. Strana frase da dire. Ma che cazzo di posto è questo? Ma... Sb... Non c'ero mai stato? Ma che c... Ma cosa? Un altro stick? Mai esplorato nella rampa precedente? Miglior live della serie. Miglior live della serie. Fai come ti pare. Combattetemi. Ah, vabbè. Allora. devo scoprire che succede se uso questo libro adesso. Niente. Non ho più abilità. Va bene. Va bene. Ok. Questo è... Cristo. Esatto. Dai, Mike Ditto. Ti faccio i tangent. Eh... Ci devo pensare. Lockpicking lo diamo a Dars. Eh... No. Caranova che ci abbandonerà. Marksmanship. Marksmanship. No. Importa. Questo... Ok. Abissogna l'abbiamo già trovato. Perfetto. Non uso le scrolls perché devo pensare a cosa farmi dare. Nel senso... Potrei imparare Blood Portal. Ma è troppo tardi. Ah... Non è vero che ho un sacco di scroll di Cristo. O meglio, un paio sono letteralmente di Cristo, però... Per esempio, vediamo un po'. Transmutation. Ha funzionato? Ha funzionato, sì. Non è vero! No, non è cibo infinito. Eh... Non è cibo infinito. È cibo moltiplicato. Non è infinito, ragazzi. Questa modalità è bellissima. Spider-Man. Allora... Pyromancy trick. Eh... Boh... Kahara. Ma no, va che tanto ha anche Black Corp, se voglio. Vedete? Ecco qua. Abbiamo tre personaggi con Black Corp, tra l'altro adesso. Vedete Black Corp. Black Corp. E... Black Corp. Ciclo infinito di vino, sì. Ah, io pensavo che avremmo reso vino alla pozza di Salmon Snake, invece è l'acqua che hai con te. Oh! Figa! Ancora meglio! Ancora meglio. Allora... Ok, mentre questo è Valtail. Allora, quanto... quanto pane ho? Tre. Quindi posso fare... Allora, via un po'. Ehm... Ah no, è vero, è infinito. È infinito perché moltiplica lo stesso cibo. O meglio... Se avessi acqua infinita, sì. Quanta... Andiamo un po'. Facciamo così, allora. Facciamo così. Ehm... Ok. Adesso facciamo. Allora. Allora... Ehm... 1 2 No! Vabbè. Ho sbagliato. Anzi, no, possiamo fare di meglio. Tanto ho salvato. Allora. 1 2 Il boss pace non è vicino, ragazzi. Poi magari col teleport. Ma il teleport sarà solo un'idea. Cioè, magari Blood Portal lo posso usare ovunque. E cambia tutto. Cioè, se Blood Portal lo posso usare nella mappa liberamente... Gioco rotto. Ma distinto, conoscendo Fear and Hunger, Blood Portal si apre solo sopra i cerchi alchemici. Capite cosa voglio dire? Eh no, lo proverò. Esatto, è il momento. Ora è il momento. Lo sai solo se lo ottieni. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok. Quanto pane ho? 11. Va bene. Empty scroll. Allora. Oh, lord. Give. No, sono tanti i cerchi ben piazzati, assolutamente. No, non give. Oh, fuck. Devo risalvare, devo ricaricare. Give. Strons. Non ho messo il plurale perché non mi fidavo. Allora. Oh, lord. Teach. Blood Portal. Ok, ci ho preso. Ci ha senso. Ok. Però a questo punto... Oh, raga. Sentite. Ascoltate. Il cerchio più vicino è quello di Enki, giusto? Mi sbaglio? La Endless Tower è un cerchio? Ah, è vero, accanto al letto nel presente. C'è... una cosa alla volta ascoltatemi aspettate una cosa alla volta non è possibile una vita una vita a guardare sta parete allora aspettate fermi ancora non mi porta quegli scrigni però ascoltatemi aspettate guardate adesso faccio questo entro qui aspetta e facciamo allora che cazzo è è una creatura vabbè è un sì è tipo il drago di san michele no a salve mi spiace ma non ti darò accesso a nulla va bene ora mi darà un ultimo morso no ok ma qui siamo vabbè ma cioè il mondo è nostro adesso voglio uscire fa troppo buio qua no non voglio andare qua questo dopo devo andare a prendere il secondo tesoro non rompere le palle te schifosa giaggio patetico dammi tempo devo prima prendere il tesoro ah ma nel presente non c'è giustamente cazzo no ah 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 ma devi devi aprirli fighissimo eh però non credo che lo farò facciamo così facciamo così prima devo trovare il tesoro è un po' come il lord vessel che va attivato però esatto non è retroattivo diciamo oh la libreria però come permettere secondo me le book pages 3 sono qua dentro le book pages 3 sono qua dentro in qualche accumulo di libri ma cos'è sta roba aspettate eh devo scendere perchè il tesoro sta qua da qualche parte vicinissimo ok mi sento scemo ok non ci sono delle scale quindi intanto qua devo ricaricare che paura che ci fa qua uno di loro vabbè che puttana mi ha sciolto l'arma? vabbè ci sta tanto questo non è un vero salvataggio adesso amici voglio cercare in tutti i libri piccoli perché secondo me da qualche parte vicino a Valtiel c'è book pages 3 che però se è una cosa di Mahabra sarà potente una volta avrei un incantino qua vero? ok vabbè niente niente finché ho luce niente niente questi cosini erano per evocare aiuteri vari no? niente niente che paura niente niente va bene allora è qua, è da qualche parte qua so che è qua sulle scale a cinque passi dal punto centrale o comunque è davanti alle scale dai, deve essere qua alla base della scala stronzo siii ah, 70 silver coin oddio ok, li vuoi per te? impressionante lo hai davvero trovato? non sapevo che questa antica città esistesse ah, ma quindi c'è una pippa non posso neanche cominciare a immaginare gli orrori e ricchezze che questo posto nasconde ma non ho intenzione di stare qua al più necessario del dovuto quindi ora prenderò il tesoro e tornerò alla luce verrai marchiato dalla morte stessa ha una mano brutta e noi gliela togliamo nooo volevo togliergli le braccia, le gambe e parlargli scheletoni ti rispetto scheletoni ma cosa stiamo scoprendo in questa run? questa è facile questa è facile perché il testa cazzo l'abbiamo visto non so come arrivare lì in basso ma è facile ma iron mask ragazzi questa cosa ti protegge dal crow mauler è anti cecità come sarà anche ovviamente sto a fare è anti cecità eh sì era ovvio solo che non ci serve comunque e anche dalla one hit kid della skin granny fico ok però sti cazzi nel senso allora facciamo un esperimento ok andiamo a cercare andiamo a cercare il terzo tesoro e poi ricarichiamo aiutiamoci a capire la mappa va perché qua stiamo un po' in un casino allora non ti arrabbiare non vomitare amico grazie a posto minchia quanto ti è andata male amico poca porca poca dove è il disegno sulla parete dove sei io mi ricordo che il disegno lo vedevamo qua sotto ci si butta da Valtail vero ora non sto raccogliendo nulla perché non è la mia vera partita no non era Valtail quello allora qui da qualche parte ma che cazzo esatto esatto lo vedevamo ok dalla strada da Landless Tower bene mi senti allora andiamo a vedere in teoria cosa per muovermi meglio più velocemente dopo quindi allora per tornare indietro bisogna entrare qua uscire salendo scendo esatto poi vado qua e di qua ti va verso la Handless no ma perché ho resettato non sono tornato indietro nella piazza sono perso dove cazzo si torna indietro ah era giusto mi sono perso perché mi ricordavo che tramite la libreria ho raggiunto la piazza ma io non mi ricordo di essere passato di qua ah sì è lì a destra bro guarda te proprio stai messo male tu non puoi farmi niente a posto esatto e qua era era qua da qualche parte me lo ricordo super bene paura io voglio far ascendere scheletoni comunque eccolo è è fuck merda quella corona lì al centro non penso sia françois perché oddio per me non è chiarissimo effettivamente non siamo davanti a un ponte sì no no certamente bisogna andarci nel presente lo so lo so fin qua amici ci sono dei palazzi che sembrano ma sta roba ma sta roba o oh ed è coperto qua come aprire quella porta secondo me con la chiave finale cosa si può fare ragazzi posso chiedervi una cosa scusate un secondo perché è serata fatemi fare come si chiama come si chiama l'oggetto chiave finale che ti apre la porta di pietra ma forse non esiste eh no perché mi ricordo che bisogna uccidere il golem kings passage key posso troppo lungo il nome è vero è troppo lungo è troppo lungo il nome vabbè ma non abbiamo neanche la stile saber con la sergal o lord vediamo eh give ok era un po' se c'è lo spazio chi ha king passage chi però manca il genetivo sassone però ci sta non fatemi king's passage non c'è lo spazio non c'è lo spazio oh lord give me ending s non è macchinoso è un nome fatemi fare è un po' inconsistente sto videogioco non mi dai l'alarma forte ma anche senza genetivo sassone mi dai la chiave di endgame speedrun fatta ma quindi le speedrun sono allora speculazione speedrun aggiungitelo nella wiki allora speedrun new game drop rng reset continuo dell'empty scroll chiave blood portal fine ah no blood portal no perché non è automatico ti prego ti prego apriti ti prego no non è vero leggi bene la descrizione il passaggio antico può essere boh old passage potrebbe essere quello del golem qua sono un po' un vicolo cieco e non posso venirci nel passato perché è chiuso qua vedete non posso neanche mettere la explosive via o qualcosa del genere pensa bene l'unica cosa che mi viene in mente è l'unica cosa che ci permette di andare nel passato è il libro che ci porta nei ricordi però non si arriva alla endless tower no no non è una porta inutile nasconde sicuramente qualcosa ah no questo non funziona si apre sicuramente con qualcosa del passato è insima no 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 non datemi troppi consigli non troppi non troppi non troppi non troppi old passage key non è che è solo meme c'era un oggetto che si chiamava old passage c'era old passage key non so se è un effetto mandela non mi ricordo se c'era una cosa del genere c'era e a cosa serviva a cosa serviva old passage key l'ho trovata nel mio run perché se c'era nel gioco io non l'ho trovata ed è un altro discorso poi per carità siamo nella seconda run quindi io sto conversando con voi perché accetto queste intrusioni in questo momento a parte del new game plus diciamo non sono convinto ok perfection e no per aprire il tempio dorato serve la king's passage che è quello che abbiamo ottenuto prima no no hai fatto bene rosco non ti preoccupare non ci sono spoiler invasivi in questo momento assolutamente 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 allora cominciamo così intanto prepariamoci a a un momento di min maxing ok 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 Grazie. Ok, poi. Perfetto. Poi. Questo, poi. Questo. Poi. Questo. Uno stracciato lo scemo. Lucky coin. Carne. 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 Carnissima. Super carne. Carnina. Ok, poi. Mi scaldo un po'. Tear save. Quanti nemici devono essere? Ah, giusto, sono raggiunti qui. Perfetto, verrò mangiato vivo. Sto bene. Sto bene. Chi? Non sopravvivrà. Cazzi tuoi. Uno. Due. Due. Tre. Quattro. Non hai fatto niente. Scheletoni no! Ok. Lascia questa terra, per favore. Grazie. Moldi. A questo punto facciamo un bello. Moldi. 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 Più. Dried. 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 Sì, ma resta. Ah, non lo posso. Troppo poca luce Mi spiace Una torcia Ok raccogliamo un po' di zozzerie Nell'oscurità Questo lo massacriamo Ormai si siamo molto vette rispetto al passato Cazzo incredibile Boom danni elevatissimi Testa si gode Perfection Raw meat Da cucinare al posto Entriamo qua Ci si sarà calmati Cuciniamo la raw meat Diamo Ma non ci serve niente di tutto questo Andiamo a salvare Uccidimi Cioè meglio combattimi Vabbè ok non c'è problema Salviamo Adesso Isaia Subito Isaia nella libreria E voglio Raggiungerlo Quindi Vabbè Ok Illusi Poverino Che deve fare Ho 20 pane Cazzo Pericoloso Molto pericoloso Non so cosa può fare quel fiore Ma non mi piace per niente Ok Lascia stare Scheletoni Per favore Perfetto Via Va bene Forte questo Questo è mortale Per qualunque run Che non sia molto ottimizzata No Scheletoni Lascialo stare Ok Cazzo Questo era veramente forte E infatti E anche lui non ha un'anima Allora White Vial Qui non serve che ricaricare Perché la partita è andata molto bene Poi Skill Loving Whispers Su di lui E poi Skills Healing Whispers Su tutti Poi Elisir della mente Entrambi Stiamo giocando la Dio Ragazzi Uno Due E via Ma questo c'è su un casino È arrivata fino a qua E non c'è lo Scrinio Tra l'altro Aspetta un po' Questo è un posto nascosto Rispetto alla nostra run Base Dove cazzo siamo finiti? Ah è vero Qua ci ero andato solo una volta E non ricordavo un tubo In blind Questo è forte no? Potremmo fare Un botto di Explosive Vials Eh Sì Possiamo ovviamente Disattivarlo Eh Però Ah facciamo così intanto Ferromons Poi Dars Kahara Mi state dando troppe informazioni Non guidatemi nei segreti del gioco That's too much Non è la terza run Non è la seconda run Piano 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 Meno È un po' Troppo dettagliato dirmi Di lanciargli un Elisir Mind Piano 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 Nel senso che Siamo tra l'altro con un salvataggio perfetto Vicino a fare tutti i test che vogliamo Lo avevo già incontrato Sì mi droppa anche l'armatura Ma Un po' meno Nel senso Piano Piano Ora Ora a questo punto facciamo più test Ok Però intanto gli spezziamo le braccia D'accordo Poi vediamo Ah vabbè Ok 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 No harm done Perché ci avrei parlato comunque Quindi non è un segreto È un segreto se lo hai e lo incontri Oh Sì Semper Fi Chi sei Sono Seril Seril Della guardia reale di Rondon Ora ricordo Il mio nome è Seril Cosa ho fatto? Posso fidarmi di te Mi dispiace Una grande vergogna Come ti ho attaccato in maniera selvaggia Come qualunque altra bestia di questa oscurità La mia volontà La mia risolutezza era troppo debole La follia mi ha abbracciato Ho una missione qui Ma credo di essermi Sposto Di essermi Inoltrato troppo a fondo Mi dispiace Devo capire che succede Ok Che figata Ma qui siamo nei segreti Dei segreti Dei segreti Dell'avventuriero Perché io qua mi ricordo Che c'ero andato Senza le risorse necessarie A stare bene Quindi ero terrorizzato E ci ero passato Molto velocemente Cazzo Si è perso di nuovo Schelettoni Fa il bravo Ah no Non è trama È Bullshit Ok È bullshit No Quanto speravo Che fosse Minchia E io che pensavo Di essere in softlock Ragazzi Ma ci rendete Ma vi rendete conto Run Questa è un bug Ok L'importante è che Me lo uccidano Non posso scappare Guard Piano Piano Scheletoni Lascialo stare Scheletoni Bravo Serial Mentre qua fuori Non si vede una pippa Ho cinque torce ancora Ok Ah e qui siamo A Naruhoto Ok Quindi ora Possiamo tornare qui Esatto Dare dietro Poi No aspettate Qui Cazzo è complicatissima Sta mappa Quando non sei a tuo agio Smettila Ok Vai qui Qui Qua Qua Ok Giù Ma non voglio andare a prendere L'enlightenment Adesso Ok Ci stiamo muovendo bene però Ora c'è Isaia Che fa lo scemo Spero di non ucciderlo Con un colpo di nuovo Ma la manina Ma la manina la dobbiamo togliere Scusa Scusa stronzo Piano E vabbè ma l'unica cosa che doveva ritogliergli Io gli parlo Non è possibile E vabbè Isaia è destino Sarà un altro save Sarà un altro save Che ti devo dire Cazzi tuoi Scheletoni Il mostro eterno Ok Poi Torniamo indietro A questo punto provo ad andare direttamente da Ah non posso qua Fuck Aspettate eh Sto cercando di sfruttare il più possibile Le risorse a mia disposizione No aspettate Da qua Si va qua Qua Esatto A questo punto questa mappa la completiamo Che paura Mazza senza critici fa veramente poco Cosa fare Ok Via Poi andiamo qua No aspettate No Labirintico Qua Porta aperta E uccidiamo Valtail Ciao stronzo Bella 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 Che culo Bellissimo Alla grande Blood and flower magic Incredibile Una pipa Giustamente Ah origina L'attenzione Questo vale di più Ma va bene Mi aspettavo Mi aspettavo un dialogo in più ma ok Talk Con Gonfialo 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 Forse avrei dovuto leggere le altre risposte, però. Mi sa che c'era ciccia nelle domande, porca miseria. Quanto cazzo forte è? Ah, è vero, siamo a difficoltà più alta. Merda. Ah, non c'era nulla di nuovo, grazie. Quanto è forte! Oh. L'abbiamo letto i libri, eh? No, merda. Mi dispiace, Darse. Hai combattuto un nuovo dio. Ok. Ok. perdonami ma non poteva andare diversamente o meglio si poteva ma è giusto approcciarsi ai combattimenti contro gli dei con le conseguenze che possono causare page 3 per ora aiuto ma non voglio stare al buio quindi per ora per ora vado qua poi salgo esatto lo giocavo comunque senza scudo lui alla fine va proprio per quel che vale lo scudo non lo la difesa conta ok adesso andiamo via da qua andiamo qua allora ho un obiettivo siamo a difficoltà massima esclusa la challenge diciamo allora ora noi dobbiamo andare o da chambara o alla ricerca io credo che chambara sia la cosa giusta io direi che chambara è la cosa giusta ma voglio andarci nel presente e per chambara noi dobbiamo andare di qua facciamo così eh c'è anche la sergala appunto facciamo così prendiamo il libro intanto indizi di cosa allora faccio domande va cosa chiediamo non vuoi scoprire dove si trova il tesoro della mappa 3 sì ma prima voglio migliorare la mia situazione senza dubbi finché abbiamo le torce da accendere vatican va bene vatican city fuck old passage proviamo lo sapevo vabbè dammi sto libro tipatico ok poi non mi aspettavo intanto dobbiamo comunque buttarci nel passato nel presente nei vari crateri qua c'è lui molto arrabbiato che mi provocherà un unlock pazzesco qui ah si ricordo che qua c'è un sacco di dubbi di esplorazione datemi tempo eh si va là sopra prima di andare sotto dash sacrosanto incredibile qui sangue white angel è una cosa molto strana comunque eccoci qua tinderboxes nitroglicerina iron arrow presente subito eccoci qua throw in knife però in realtà abbiamo un problema ma no perché forse abbiamo anche lo skeleton arm forse no non è un problema abbiamo tre arm abbiamo tre armi e forse lo skeleton vedo di no cazzo è tutto buio in sto posto però che posto di merda madonna non vale la pena usare un empty scroll per quello eh andiamo qua cinque tinderboxes qui mi manca il rituale e ho visto che abbiamo ottenuto l'anello di prima ora sono super focused ragazzi scusate ma questa difficoltà mi mette un'ansietta che è a metà basta ok ok eccoci qua eccoci qua boh che cosa sono le arm guard sono la versione della plate mail ah è un accessorio ah è vero aumentano la difesa ancora di più si sono la parte della sono la plate mail ragazzi ma dove cacchio è la la sergal non era non era qua ma è vero ma è vero ma mi spezzo qua se cado perché ci devi andare eh esatto nel passato esatto esatto però anche il passato vediamo no i crateri si sono nel presente è vero solo che noi siamo passati nel presente qua quindi abbiamo fatto danni ah no è vero perché siamo passati esatto siamo passati nel passato ok 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 ce l'ho presente che voi e voi eravate contentissimi che in blind l'avessi trovata sta roba sono un po' preoccupato per le torce perché pensavo che fosse molto più illuminata macabre ora vado indietro eccoci qua oh no non è questo è quello nell'angolo cazzo quindi però non puoi andare nel passato devi andare nel passato abbiamo perso un empty scroll allora qui abbiamo tutto il cibo pronto ok tutto cucinato però non abbiamo salvato fuck ok potremmo avere una buona notizia in realtà cioè potremmo avere un better ending non per la empty scroll ovviamente ma per la nostra principessa Shenia ovviamente uno stick che è meglio di un empty scroll ormai esatto ho tutte le braccia e potremmo mantenerle a questo punto potremmo mantenerle potremmo mantenerle potremmo mantenerle potremmo mantenerle dobbiamo uccidere tutte queste cose preziose che sono molto forti no il vomito adesso che sfiga che culo braccine braccine non fallire per l'amore di tutto ciò che è sagro che questo ci gonfia veleno va bene questo ci gonfia come una zampogna l'abbiamo devastato perfetto quindi ecco qua non fare il polmo su Shenia perché scoppia mazza è andata da dio white vial poi magia loving whispers ok poi pipe tobacco kahara e questi fiori sono sono infezioni del dio delle profondità in un certo senso un monocolo va bene altri funghi raccogliamoli erba blu erba no non è neanche lui l'oscurità ci avvolge non è ancora il momento di farci avvolgere dall'oscurità qui abbiamo explosive eh non avrò più certa fortuna eh ragazzi ormai abbiamo effettivamente esaurito un po' la ok e tu ti raccapezzerai in un certo senso talk guard guard tieniti pure i tuoi arti per quel che vale per quel che vale elizir guard lo stiamo azzoppando skill stalk però come vedete stiamo anche resettando in maniera super veloce tutto ordinatissimo ci sta cazzi tuoi chi sei? Seril bravo amore mio ora non facciamo per favore tradimenti alle spalle come prima qui abbiamo una strada conosciuta allora però per andare alla libreria noi adesso dobbiamo tornare da ovest sono un po' preoccupato per per le torce vi dirò sono un po' tanto preoccupato magari è la volta buona che riesco a parlare con Isaia se intanto vediamo se ora si è calmato lui ho fatto il test di fare tipo due aree oltre spero che si sia rilassato ecco no no ok qua è tutto talmente ordinato talmente preciso che sono molto preoccupato di poter sbagliare sapete ok forse lui adesso nel presente magari ci mette dieci anni a calmarsi cioè diecimila anni mille anni ok perfetto perfetto questo non c'è niente mi sa e noi invece non c'è la libreria bravo Mike che non ti arrendi mai adesso andiamo nella sua la chat è immobile perché siamo tutti coinvoltissimi sul mio recupero cioè stiamo agendo in maniera super meccanica per non sbagliare niente sbrigati cioè se devi fare lo splendido devi veramente non perdere tempo una quill tua madre è una quill un po' carino questo ci sta grande che ve lo dico a fare amici no pranzo a stiamo cazzo no scheletoni no ci sta ci sta scheletoni può essere sostituito ragazzi scheletoni ucciso dalla lore ci sta tanto gli equipaggiamenti tornano giusto non tornano ah no e va bene cazzo che l'equip scompaia merda che l'equip scompaia è grave non me l'aspettavo che avrebbe fatto sta roba valta mannaggia a lui antipatico burlone allora dobbiamo stare particolarmente attenti a questo punto volendo potrei fare prima già che siamo qui mi butto qua a nord perché era qua a nord vero è là esatto stai zitto ok eccoci qua a posto e ora siamo scarsi oi 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 roof giud练 oi 1 oi 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 Direi Che siamo abbondantemente Nel chilling Delle divinità antiche In questo momento Una pipa Dirt Ah, sti, uno scudo a kahara Certo Qui abbiamo le zozzerie E vai, uno stick Sei silver coins Raw meat Per quel che vale Natural doctrine Poems to love and torment Perché vabbè, era un romantico Two eggs Glass vial Rotten meat Moldi bread Non abbiamo abbastanza Ricordiamoci che Siamo stati perfettamente pronti Add blood Niam 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 Eh sì, sì, facciamo chambara A questo punto, certo Va bene Guarda come belli Siamo anche vestiti Ovviamente per errore Per 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 Errori Sola e per 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 censura Ok Oh Oh Già fatto Bravo Si sale Perfetto Soulstone Ed ecco che arriva il buio E i problemi E i problemi Ma non posso bere un po' di 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 Crearmi una bolla di Biomiduminescenza Come tutte le persone Normale Allora Che paura Con chambara Dietro le spalle Ah è vero È solo nel passato Oh Certo Ditemi pure una chicca sui ragni Lo apprezzo Prova a fare Tor Oh lo farò Ci puoi parlare Non era Non è stato molto piacevole Mi ha anche avvelenato Ah ma la Sergal Spear La Sergal Spear Non ci azzecca mai Quindi purtroppo Hai Glasses No si Potevo schiacciarlo Vabbè ma Schiacciarlo È come attaccarlo Bella chicca Per carità Ah no Sono i ranni Che hanno High evasion Ok Ah è una kill garantita Carino Carino Ok 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 Ah il 100% Di bypass evasion Carino È il fatto che Non mi hanno mai dato problemi Di hit rate No quindi Veloce Scusami Praticamente Siamo a un passo Da prendere tutte le anime Adesso Queste torce Smettila Nooo Fatti cazzi tuoi Lascia stare Lascia stare i bimbi Che Villi Commenze ale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi evitarmela, in effetti. Puoi. Ok. Sì, no, serata incredibile oggi, sono d'accordo, incredibile. Va bene, bro. Madonna mia. Ed è anche avvelenato. Siamo troppo forti con sto salvataggio, ragazze. Buongiorno. 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 Devastato. L'abbiamo tormentato. Può solo piangere. Può solo piangere, tormentato. Buongiorno. 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 scappare da te, Angioletto. Come stai, eh? Come ti senti? Sì, però... la gag funziona se colpisco e tu muori subito. Altrimenti... A posto. Io vorrei farvi notare che abbiamo Salmon Snake White, White, White. Questo è Mike quando gioca a un GDR. Abbiamo due, quattro, sei, sette turni a round. Perfetto. A posto. No, volevo solo raccontarvi questo dettaglio. Oh no. Siamo tutti affamati. Problema che stiamo finendo le torce E abbiamo anche due lucky coin Si è meritato il terzo slot Si è meritato il terzo slot Adesso il gioco si sta lentamente trasformando in coraggio e sazietà Coraggio e sazietà Ragazzi Io poi voglio un commento di Frapollo sotto questo video Deve essere pinnato, è importante Perché bisogna anche valorizzare i top creator Di un certo videogioco e community Quindi Wow Ok, finale perfetto Prossima puntata E ricordatevi che in qualunque momento Potevamo andare da François E a scendere A meno che il trono non funzioni Se non hai le altre anime Cosa per cosa No Le anime servono per convincere il golem Ragazzi, grazie Io mi sono emozionato stasera Questa è una delle più belle live della mia carriera Perché poi sono innamorato di Fear and Hunger Ed essendo un gioco che abbiamo cominciato a giocare Con anche la paura di non impararlo mai Perché per quanto uno possa avere 30 anni di esperienza Comunque ha sempre la La sensazione di poter trovare un muro, no? Indipendentemente dall'expertise nel settore Blah 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 Proprio invece Boom White Angel, White Angel, White Angel Trisciottato Ciambara White Angel che ha fatto 10 danni E poi ha pianto Domani abbiamo l'RPG Night Ma alle 15 Luca a parte Fallout Top tier Settimana bella